Il 18 e 19 gennaio 2014 la fiera di Modena si trasformerà per la sedicesima volta in un mega outlet store dove potrai trovare tutto ciò che desideri tra box multimediali, tablet, smartphone, schermi e software per il tuo computer tecnologie elettroniche open source, videogiochi e tanti utili gadget dedicati all'elettronica di consumo ma anche Model, l'area dedicata al modellismo statico, dinamico, civile, storico e militare spazio anche a chi vuole confrontarsi con gli universi Linux, Android, 3D Printer e molto altro nella grande area del Modena Makers come sempre non potrà mancare l'atteso mercatino del disco, CD e DVD usato e da collezione e una sorpresa per tutti gli amanti dei fumetti, manga e cartoons Cosmo Cosplay, la versione 2.0 della tradizionale fiera del fumetto con la mostra mercato del fumetto usato e da collezione e l'esibizione dei cosplayer Due giorni imperdibili con oltre 300 espositori e migliaia di prodotti a prezzi eccezionali con sconti fino all'80% rispetto ai canali distributivi tradizionali Tutto ciò in un solo luogo Expo Elettronica, 18-19 gennaio, fiera di Modena Expo Elettronica, 18-19 gennaio, fiera di Modena Di Modena Cheesta ogni oluta I Gbi Di donne Security